Questa generazione, ma tante altre, ci hanno fatto credere che il diavolo era un mito, una figura, un'idea, l'idea del male. Ma il diavolo esiste e noi dobbiamo lottare contro di lui. Chi ha presentato la singularità e ha costruito come diversità, il maestro dell'università, quando stiamo facendo l'esercizio per l'esercizio. Chi ha dato l'esercizio per l'esercizio e ha supportato l'esercizio con l'immaginazione? Chi ha embellito l'esercizio con le sensazioni, a volte ripolli sulle lezze, il maestro dell'esercizio. Chi ha completato la decorazione delle parti, la combinazione delle parti. Chi ha designato la vegetazione, ha dato la continuazione di loro, tutte lezze, in la resercizio. Chi ha completato la decorazione delle parti, la combinazione delle parti. Chi ha designato la vegetazione e ha dato la continuazione di loro, tutte lezze, in la resercizio. Chi ha presentato la singularità e ha costruito come diversità, Chi ha printam� l'esercizio e ha disposizio a un tempo più forte. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti